E salve a tutti per ritrovare a questo nuovo appuntamento con il Friday Tech di cosa parliamo oggi. Ehi, che aspetti? Corri a scaricare la nostra app, è gratis, ci sono news, contest, guide e molto altro. Cercala per iPhone e iPad. Aspetta solo te, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione. Purtroppo, o per fortuna, in base ai punti di vista, siamo ormai quasi ad agosto. Domani appunto sarà l'1 agosto e le notizie del mondo Apple scarseggiano. Ovviamente sul sito stiamo cercando di darvi ogni giorno le notizie che escono, ma ovviamente questa è la classica fase di stallo che prelude il primo iPhone dell'anno, ovviamente che uscirà a settembre-ottobre. Infatti in queste settimane non ci sono state notizie davvero entusiasmanti, a parte l'uscita dell'ultima versione beta di iOS 9. Con questo video infatti volevo comunicarvi che Apple Zain, tra virgolette, andrà in vacanza per tutto il mese di agosto. Ovviamente se dovesse però uscire qualche notizia davvero, ma davvero importante, la pubblicheremo senza dubbio sul sito, sulle nostre pagine social, Twitter e Facebook, che vi invito a seguire cercando Apple Zain e ovviamente con qualche flash news qui sul canale. Quindi il Friday Tech andrà in vacanza e riprenderemo dalla prima settimana di settembre. Io ragazzi spero che appreziate tutto il lavoro che abbiamo fatto per questa prima parte del 2015. Io come al solito ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video e per supportarci sempre. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi, mettere mi piace e commentare. Ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui con Mirko ed Apple Zain. Ciao!